Bimba e rimba, birimba e rimba e rimba e rimba Buonasera Io sono nato a sud di Parigi Molto a sud insomma, a Santa Giusta, provincia di Stano A tutti i modi, la Sardegna secondo me è un'isola E' così bella che quando il turista arriva rimane proprio estasiato Affassinato Certe volte rimane addirittura rapito Capito mi hai? Fare il sardo è un mestiere, è un mestiere difficile Ci vogliono delle basi E siccome non ce le avevamo noi, le basi ce le hanno messe gli americani Capito mi hai? E questo è come si chiama? Un computer Che lo conoscerete anche Che voi mi siete fatti un'idea dei sardi Ma che cosa? I pastori in Sardegna ormai hanno decinaia e decinaia di computer I cosiddetti computer da pascolo Che usano il linguaggio basic Capito mi hai? Solo che servono per contare le pecore questi Adesso a forza di contare le pecore si addormentano i computer Da Sardegna Che quando qualcuno combina qualcosa di veramente grave Gli dicono ti sbatto in Sardegna Ma chissà che cosa hanno combinato Agnelli e Benedetti Che quelli è un ventinaio di anni Che da luglio a settembre li sbattono in Sardegna Capito mi hai? E a tutti i modi sicuramente ne hanno combinato meno di Craxi Che quello D'ogli estate lo sbattono direttamente in Tunisia Lo sai? A tutti i modi io sono qui per vendervi un pezzo di questa meravigliosa terra di Sardegna Capito mi hai? Eccola qua la nostra terra E brucia lo vedi? Si vede che questa è la vera terra sarda Brucia L'ampu Bye 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 bye